Preparatevi perché nel video di oggi abbiamo tanti argomenti da trattare A partire dal Gran Premio di Spagna che si sposta a Madrid dal 2026 Che sarà il secondo evento in Spagna che si disputerà in questo circuito cittadino Ci ricordiamo il 22 giugno 2022 in pochi avevano preso seriamente la proposta del Gran Premio di Spagna a Madrid E invece ad oggi è ufficiale, è confermato E qui ci sono opinioni diverse, vi dirò anche la mia dopo Però c'è chi è entusiasta di avere un nuovo circuito all'interno del calendario Un circuito cittadino facile da raggiungere anche con i mezzi pubblici E che alterna delle zone della città con zone invece non cittadine Quindi si può dire che è un circuito misto E altri che sostengono la tesi ancora un circuito cittadino in Formula 1 Perché non aggiungono circuiti come Hockenheim, come Portimao, dei veri e propri autodromi Dove le macchine in Formula 1 possono esprimere il loro massimo potenziale E quindi dove i piloti non sono costretti a correre tra i diversi muri della città Che tra l'altro a livello di sicurezza non è il massimo Andremo a vedere anche che fine farà il Gran Premio di Catalunia a Barcellona Continuerà o non continuerà in Formula 1 E in più dobbiamo analizzare una news importante su Ferrari Perché sembra che continuerà a avere anche sulla monoposto 2024 L'Esdact Il famoso condotto che collegava la parte inferiore delle pance alla parte superiore Aveva fatto tanto scalpore l'anno scorso Poi in termini pratici non aveva fatto così tanta differenza Ma andiamo a vedere quale sarà la direzione anche su questo punto E sono sicuro che in tanti voi sono chiesti come fanno ad adottare una configurazione aerodinamica In stile Red Bull e mantenere questo Esdact Lo vedremo insieme Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un like Di iscrivervi e attivare le notifiche Per non perdervi nessun video che esce qui sul canale Mi raccomando attivate le notifiche così venite sempre avvisati quando esce un nuovo video Tra l'altro questo weekend sarò su una pista ghiacciata con Alpine E farò un video a riguardo, non vedo l'ora di portarvelo qui sul canale Andremo a vedere come si può arrivare al limite nella guida sul ghiaccio E come bisogna comportarsi alla guida quando ci sono delle condizioni così estreme Io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram dove pubblico contenuti a tema automotive E ora iniziamo subito con il video Ma prima sigla Il nuovo Gran Premio di Spagna che si disputerà a Madrid dal 2026 Avrà un circuito lungo 5,47 km Alcune strade che sono di utilizzo comune nelle vie della città E altre strade che verranno realizzate appositamente per l'evento Attorno alla zona di FEMA Che trova come rappresentante per questa unione tra la città di Madrid e la Formula 1 José Vincente de los Mossos E quest'area adibita al circuito si trova a nord-est della capitale spagnola La pista deve essere ancora approvata dalla FIA per le norme di sicurezza Ma un giro di pista durerà circa 1 minuto e 32 secondi Con 20 curve totali Questo layout, ditemi cosa ne pensate nei commenti A me non fa tanto impazzire Però ci sono altri elementi da valutare L'ampiezza della carreggiata I vari dossi e sconnessioni che ci sono in pista E che limitano di solito i tracciati cittadini Vedi il famoso tombino di Las Vegas Che aveva causato l'incidente di Sainz nelle prove libere Ecco ci vorranno degli ampi controlli per omologare questo circuito E approvarlo per le gare di Formula 1 E tutto il circuito è gestito da diversi enti pubblici A partire dal comune di Madrid che ha un 31% L'amministrazione regionale della comunità di Madrid Che anch'esso ha un 31% Così come la camera di commercio di Madrid E infine la fondazione Monte Madrid ha un 7% La federazione dell'automobile spagnola è stata avvisata fin dal principio Quando si voleva disputare questo Gran Premio a Madrid José Vicente de los Mossos ha seguito i lavori E detto che tutto procedeva per file per segno La FIA era già al corrente di questo Come anche Formula 1 E quindi vedremo questo Gran Premio di Madrid dal 2026 Anno non casuale Perché ovviamente cambierà il regolamento tecnico Lo sappiamo tutti Quindi le power unit saranno diverse Con più percentuale elettrica rispetto a quella termica Ci sarà circa un 55-45% Con sempre una maggioranza termica Comunque sarà una power unit nuova Ma non solo Sarà anche l'ultimo anno del Gran Premio di Catalunia A Barcellona L'ultimo anno di contratto è appunto il 2026 E quindi tutti si stanno chiedendo Ma Catalunia rinnoverà il contratto? Sapendo che c'è già il Gran Premio di Madrid Che ha un contratto in essere dal 2026 in poi Probabilmente anche il circuito di Catalunia Continuerà in Formula 1 Non è ancora ufficiale Perché non hanno rinnovato il contratto Però Stefano Domenicali ha detto che da parte sua Non ci sono vincoli per rinnovare il contratto Solamente che il Gran Premio di Barcellona Avrà la denominazione di Gran Premio della Catalunia Mentre quello di Madrid sarà il Gran Premio di Spagna ufficiale E secondo i promotori dell'evento Il Gran Premio di Madrid dovrebbe generare 500 milioni di euro Nell'arco del weekend Per l'intera regione Queste sono le informazioni che dovete sapere Ora vi dico anche la mia opinione Stiamo andando sempre di più verso una Formula 1 Che punta ai soldi più che al vero aspetto sportivo E questa cosa un po' mi preoccupa Perché se è vero che all'inizio Queste due cose andavano di pari passo Nel senso che ci voleva una rivoluzione Nella massima categoria del motorsport E quindi siamo stati tutti favorevoli Al nuovo regolamento 2022 Che doveva arrivare nel 2021 Poi causa Covid è arrivato dopo Ma ha permesso di aumentare lo spettacolo in pista In teoria a limitare la differenza Tra i top team e tutti gli altri E in più l'obiettivo era quello di sviluppare Il caricoro dinamico dal fondo In modo da non generare turbulenze nocive Sopra la monoposto Così da favorire i sorpassi Questo nuovo regolamento Che coincideva con la gestione ancora più estrema Di Liberty Media Dello sport Pensiamo alle nuove stagioni Drive to Survive Pensiamo al Gran Premio di Miami L'obiettivo era quindi quello di spostare il focus Sullo spettacolo Dei tifosi che vanno in circuito E si godono l'esperienza Piuttosto che vedere le auto più veloci al mondo In pista Ma con gare noiose E quindi nel primo periodo In cui hanno cambiato le regole Penso specialmente nel 2022 Eravamo tutti soddisfatti Anche vedendo la battaglia tra Ferrari e Red Bull Per il titolo mondiale Però il problema è che dal 2023 in poi Sono peggiorate diverse cose A partire dalla FIA Che ha peggiorato sempre la sua autorità Sui piloti e team in pista Specialmente nei confronti di Red Bull Il budget cap fortemente limitante Un'assenza di competizione in pista E quindi mancanza di spettacolo Perché c'è un dominio netto di Red Bull Cosa che si era vista anche in passato Ma Liberty Media aveva promesso Di non replicare uno scenario del genere E quindi su questo ha fallito E in più stiamo vedendo sempre più piste cittadine In Formula 1 A partire da Jedda Il circuito di Miami Las Vegas Oppure altre piste che sono lì Solo perché pagano in Formula 1 Vai a toglierle Piano piano vai a far scemare Anche la vera passione Che ha un tifoso per lo sport Perché una pista te l'accetta Che la togli Ma se tu ne togli 4-5 di queste Che sono i capi saldi della Formula 1 Beh un tifoso si lamenta E magari va a seguire altri sport Più genuini E quindi l'introduzione Di questo Gran Premio di Madrid Ci fa capire come la Formula 1 Va sempre di più nella direzione Della Formula E Con piste più cittadine Facilmente accessibili ai tifosi Perché chi abita in città Può vedere Gran Premio Quasi da casa sua E sono piste che sono raggiungibili Anche con i mezzi pubblici Limitando fortemente Le prestazioni delle monoposto I sorpassi Perché nelle piste cittadine Ce ne sono di meno E anche la sicurezza in pista Che passa in secondo piano Quando ci sono i soldi di mezzo E questo è un campanello D'allarme importante Il Gran Premio di Madrid Rimarrà fino almeno il 2035 Sappiamo che il Gran Premio di Catalunia C'è dal 1991 Negli ultimi anni Non aveva garantito Gare spettacolari A causa di un layout Della pista molto stretto Un alto consumo delle gomme Però è una pista storica Fondamentale anche per i test E che c'è dal 1991 Domenicali ha confermato Che ci sono delle discussioni In atto tra Catalunia E Formula 1 stessa Per rinnovare il contratto Dal 2026 in poi Se non dovesse succedere Sarebbe un vero e proprio Rimpiazzo Di Madrid con Catalunia E questo secondo me Per i tifosi Sarebbe un duro colpo Un'aggiunta di una pista cittadina Uno dice Vabbè Potevano fare a meno Però almeno Non vanno a togliere Gli autodromi Anche se è vero Che potevano aggiungere Un Hockenheim Un Nürburgring Un Portimao Insomma una pista Che è un vero e proprio autodromo E quando ci si lamenta Perché i circuiti E gli autodromi Sono difficili da raggiungere Si potrebbe investire Al posto che rinnovare La pista O adibire le città Circuiti Si potrebbe investire Per rinnovare I servizi di accesso Agli autodromi Collegare più facilmente L'autostrada Al circuito stesso Così che diventa più facile Anche per i tifosi Raggiungere l'autodromo Sappiamo che la Spagna Ha goduto di due circuiti Nel calendario Tra il 2008 e il 2012 Quando c'era Barcellona e Valencia E ancora prima Tra il 94 e il 97 Quando c'era Barcellona e Rez Io sono contrario A questo nuovo GP di Madrid Per il semplice fatto Che si poteva aggiungere Un altro circuito Un vero e proprio autodromo La Germania per esempio Ma anche in Formula 1 Da qualche anno Si poteva mettere Un autodromo tedesco Oppure riportare Portimao O anche il circuito In Sudafrica Anche quello era un bel progetto Ma ci sono anche diverse piste Dove la Formula 1 Ha corso in passato Per esempio la Corea del Sud L'India Stati che attualmente Non hanno un circuito Di Formula 1 E sarebbe importante Per esportare lo sport All'estero La Spagna va già Alla pista di Catalunia Che si aveva tante limitazioni Come abbiamo detto prima Però è sempre stato Un autodromo Più che rispettabile Quindi non c'era l'esigenza Di avere un circuito A Madrid Capisco che comunque Sono circuiti più raggiungibili Per i tifosi Che possono arrivare Con i mezzi pubblici E queste non sono cose scontate Però avere un altro Circuito cittadino È un po' un peso In questo calendario Che sta aggiungendo Tante piste Forse anche troppe E tutte con i muri Che delimitano La carreggiata della pista Alla faccia della sicurezza Ma ditemi la vostra opinione Nei commenti Perché sono curioso Di sapere cosa ne pensate E ora passiamo a parlare Di Ferrari Prima di andare nel dettaglio Dell'Esdact Voglio parlarvi Della presentazione Della Ferrari 676 E sarà una presentazione A porte chiuse Infatti saranno presenti Solamente i rappresentanti Degli sponsor Mentre tifosi Invitati E televisioni Rimarranno fuori Gli incontri con i manager I tecnici E i piloti Saranno virtuali Con sessioni di 20 minuti Su zoom E la macchina si vedrà Solamente dalle immagini Insomma Non sarà quella che debuterà Nei test in Bahrain Ma sarà invece quella Del filming day Di 200 km Che si svolgerà a Fiorano Ci sarà il 13 febbraio Prima uno shakedown Di 15 km Per testare che vada Tutto bene Su una monoposto E poi successivamente Ci sarà anche il filming day Di 200 km Questo perché Lo spettacolo dell'anno scorso Con la tribuna Allestita Con i tifosi a Fiorano Le varie interviste Sul campo Avevano creato Tanto hype in Ferrari Compreso anche L'arrivo di Vassur Come team principal E la carica Che avevano dato i piloti Con anche i vari team radio Durante lo shakedown E quindi Ferrari Quest'anno Preferisce tenere Un profilo basso C'è un clima ottimista Maronello Sì Però non vogliono dare False aspettative Detto questo Ci sono delle news Tecniche sulla Ferrari 2024 Andiamo a vederle insieme Subito Come abbiamo detto Più volte I tecnici guidati Da Enrico Cardile Stanno seguendo Lo sviluppo tecnico Di Red Bull Della RB19 Per prendere spunto Su diverse forme Specialmente nelle pance Che riprenderanno Sempre lo stesso disegno Aerodinamico Dell'anno scorso Con il con antintrusione Spostato di 30 mm Più in basso Sul fondo E altre accortezze Tecniche aerodinamiche Abbiamo già detto Ci sarà un nuovo telaio Con diversi attacchi Delle sospensioni Ma con lo stesso schema Push row dall'anteriore Pull row dal posteriore La parte anteriore Non dovrebbe essere squadrata Nella parte inferiore Ma dovrebbe introdurre Una sorta di chiglia Che aumenta La portata di aria Verso i canali venturi Abbiamo già detto Della scatola del cambio La trasmissione Che saranno ridotte Dimensioni E alleggerite di peso Per riuscire a generare Più carico aerodinamico Dal diffusore E dai canali venturi Così da avere Un'ala anteriore E posteriore Più scarica Così come anche La Bimwing Ma sappiamo che invece L'S duct Verrà riconfermato Sulla Ferrari 2024 E quindi verrà confermato Un passaggio d'aria Dalla parte inferiore Delle pance Sotto la bocca Di radiatori Fino alla parte superiore Dove prima c'era Un canale in wash Che collegava La parte posteriore Ma sto giro Cambierà Perché sappiamo Che Ferrari Riprenderà Lo schema di pance Di Red Bull Quindi troveranno Una soluzione alternativa Per riutilizzare Questo S duct Con una funzionalità Diversa Pensate che l'idea originale È made in Maranello E deriva da un progetto Di Aldo Costa Del 2008 Ovviamente questo progetto È stato rivisitato E adesso applicato Sulla SF23 Verrà riutilizzato Anche nella vettura 2024 Ed è strano Perché comunque Gli avversari Non hanno ripreso Questa idea Del team di Maranello Però Ferrari È convinta Il team guidato Dal Diego Tondi Capo progettista Dell'aerodinamica In Ferrari Confermerà L'S duct Anche sulla vettura 2024 Che è un'innovazione Che ha trovato Ferrari L'anno scorso E che vuole riconfermare In più ci sarà Un altro cambiamento Nella parte superiore Della monoposto Sappiamo che la struttura Della zona Della power unit Quindi quella Dietro all'abitacolo Era diversa Tra Ferrari E gli altri top team Penso specialmente A Red Bull e Mercedes Perché avendo Una struttura Della power unit Più orizzontale E quindi una macchina Più bassa Ma più larga Il che obbligava Ferrari a avere Più prese d'aria Per fare evacuare L'aria calda Della power unit Lateralmente Al contrario Red Bull e Mercedes Avevano una power unit Sviluppata in verticale Che quindi era Meno larga In ampiezza E richiedeva Anche meno aria Per raffreddare Il motore Quindi la parte alta Del monoposto Che ruota Attorno al poggiatesta E al roll bar Sarà molto caratteristica E lavorata Da un punto di vista Aerodinamico Sarà molto diversa Ci saranno una serie Di alette E deviatori di flusso Che incanalano L'aria Verso la parte posteriore Della monoposto Tra la B-wing E l'alettone Però questo cambiamento Non porterà Delle modifiche Sulla prese d'aria Per esempio Sopra la testa del pilota Che rimarrà triangolare Così come le prese d'aria Laterali Sulle pance Rimarranno le stesse Perché la disposizione I radiatori Non cambierà Quindi ci sarà Solamente una modifica Aerodinamica Sopra il poggiatesta Canalare meglio L'aria Verso il posteriore E un aspetto importante Cambierà sulla Ferrari 676 E sicuramente La zona dello scarico Sappiamo che lì Le Ferrari precedenti Cercavano di essere Molto aderenti Al tubo di scarico Per evitare Delle turbolenze nocive A sto giro Andranno a cambiare Questo concetto aerodinamico Andando a allargar La zona della carrozzeria Attorno al tubo di scarico Riprendendo questa soluzione Da Red Bull E quindi questa zona Sarà più larga E più allungata Così da accompagnare Anche l'aria calda Che proviene Dalla zona del motore Verso l'ala posteriore E verso la B-wing L'aerodinamica Della Ferrari Cambierà notevolmente Con due macro flussi Uno che viene Dalla parte esterna Delle pance In una posizione più bassa Che arriverà Nella zona del diffusore E del retrotreno Mentre l'altro macro flusso Deriva dalla parte Superiore della monoposto Specialmente La zona dell'alo Che viene accompagnata Nella parte superiore Delle pance Fino alla zona Del tubo di scarico Dove arriva anche L'aria calda E questo flusso d'aria Arriva nella zona Della B-wing E dell'ala posteriore Queste sono le altre modifiche Che vedremo Sulla Ferrari 676 Ditemi cosa ne pensate Nei commenti Del Gran Premio di Madrid Siete favorevoli O contrari Cosa ne pensate Di questa ulteriore Modifica di Ferrari Ditemi la vostra Nei commenti Sono curioso Di leggere e rispondere A tutti quanti Come sempre Vi ricordo di lasciare un like Di iscrivervi Attivare le notifiche Se vi piacciono i video Sul canale Ogni settimana Pubblico nuovi video A tema automotive E Formula 1 Qui da Rastro è tutto Ci vediamo A un prossimo video Ciao 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 Ciao